In diretta, la Santa Messa dalla Chiesa del Gesù Nuovo, Napoli In diretta, la Santa Messa dalla Chiesa del Gesù Nuovo, Napoli In diretta, la Santa Messa dalla Chiesa del Gesù Nuovo In diretta, la Santa Messa dalla Chiesa del Gesù Nuovo Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con ciascuno di voi E con il tuo Spirito Fratelli e sorelle, Natale Questo Dio che non può fare a meno di noi, si fa uno di noi per condividere la nostra condizione umana E permettere a noi di essere Dio Di rientrare finalmente nella sfera di Dio Riconoscenti per questa incarnazione, riconosciamoci i bisognosi di perdono Signore figlio di Dio Che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello Abbi pietà di noi Signore figlio dell'uomo Che conosci e comprendi la nostra debolezza Abbi pietà di noi Signore figlio primogenito del Padre Che fai di noi una sola famiglia Abbi pietà di noi Signore Dio Onipotente ha misericordia di noi Perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna Abbi pietà di noi E pace in terra agli uomini di buona volontà Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa Signore Dio, Re del Cielo Dio Padre Onipotente Signore figlio unigenito, Gesù Cristo Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio dell'Uomo Abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo Accogli la nostra subunica Tu che siedi alla destra del Padre Abbi pietà di noi Perché tu solo è il Santo Tu solo è il Signore Tu solo l'Arvissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo Nella gloria di Dio Padre Amen Gloria, gloria, in excelsis Deo Gloria, gloria, in excelsis Deo Preghiamo O Dio che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine E in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti Fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio Che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana Egli è Dio E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo Per tutti i secoli dei secoli Amen Dal libro del profeta Esaia Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace Del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza Che dice a Sion Regna il tuo Dio Una voce Le tue sentinelle alzano la voce Insieme esultano Poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion Prorompete insieme incanti di gioia Rovine di Gerusalemme Perché il Signore ha consolato il suo popolo Ha riscattato Gerusalemme Il Signore ha snudato il suo santo braccio Davanti a tutte le nazioni Tutti i confini della terra Vedranno la salvezza del nostro Dio Parola di Dio Prendiamo grazie a Dio Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio Cantate al Signore un canto nuovo Perché ha compiuto meraviglie Gli ha dato vittoria alla sua destra E il suo braccio santo Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia Egli si è ricordato del suo amore Della sua fedeltà alla casa di Israele Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio Acclami il Signore tutta la terra Gridate, esultate, cantate inni Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio Cantate inni al Signore con la cetra Con la cetra al suono di strumenti a corde Con le trombe e al suono del corno Acclamate davanti al Re Il Signore tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio Dio, che molte volte in diversi modi nei tempi antichi Aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio Che ha stabilito erede di tutte le cose E mediante il quale ha fatto anche il mondo Egli è in radazione della sua gloria E impronta della sua sostanza E tutto sostiene con la sua parola potente Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati Sedette alla destra della Maestà nell'alto dei Cieli Divenuto tanto superiore agli angeli Quando più eccellente del loro è il nome che ha ereditato Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato E ancora Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio Quando invece introduce il primo genito nel mondo Dice Lo adorino tutti gli angeli di Dio Parola di Dio Prendiamo grazie a Dio Prendiamo grazie a Dio Prendiamo grazie a Dio Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Giovanni In principio era il Verbo E il Verbo era presso Dio E il Verbo era Dio Egli era in principio presso Dio Tutto è stato fatto per mezzo di Lui E senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste In Lui era la vita E la vita era la luce degli uomini La luce splende nelle tenebre E le tenebre e le tenebre non l'hanno vinta Venne un uomo mandato da Dio Il suo nome era Giovanni Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce Perché tutti credessero per mezzo di Lui Non era lui la luce Ma doveva dare testimonianza alla luce Veniva nel mondo la luce vera Quella che illumina ogni uomo Era nel mondo E il mondo è stato fatto per mezzo di Lui Eppure il mondo non lo ha riconosciuto Venne fra i Suoi E i Suoi non lo hanno accolto A quanti però lo hanno accolto Ha dato potere di diventare figli di Dio A quelli che credono nel Suo nome I quali non da sangue Né da volere di carne Né da volere di uomo Ma da Dio sono stati generati E il Verbo si fece carne E venne ad abitare in mezzo a noi E noi abbiamo contemplato la Sua gloria Gloria come del figlio unigenito Che viene dal Padre Pieno di grazia e di verità Giovanni gli dà testimonianza E proclama Era Lui Di Lui che io dissi Colui che viene dopo di me E avanti a me Perché era prima di me Dalla Sua pienezza Noi tutti abbiamo ricevuto Grazia su grazia Perché la legge fu data Per mezzo di Mosè La grazia e la verità Vennero per mezzo di Gesù Cristo Dio nessuno lo ha mai visto Il figlio unigenito Che è Dio Ed è nel seno del Padre È Lui che lo ha rivelato Parola del Signore Glorie a te E con Cristo Passeranno i cieli E passerà E passerà E passerà La Sua parola Non passerà Alleluia 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 Con gli occhi del cuore Noi andiamo a Betlemme In questa terra martoriata Così sofferente A Betlemme C'è La grande basilica Della natività Sotto Questa basilica Nella cripta Si conserva Il luogo Che per tradizione Si vuole Sia il luogo Della nascita Il luogo Della nascita Di Gesù Lì In questa piccola grotta C'è Una stella Poggiata a terra E c'è scritto E il verbo Si fece carne L'estrema Semplicità Di questa grotta Ci pone Molti interrogativi Interrogativi Che ci accompagnano E ci devono Accompagnare Com'è possibile Tutto ciò Com'è possibile Che un Dio Si faccia uomo Com'è possibile Che un Dio Non scherzi A prendere Le sembianze umane Come facevano Come facevano Gli dei Dell'Olimpo Per i loro interessi Ma Che si fa Veramente uomo Ma E' possibile Che un Dio Che un Dio Che un Dio E allora, mettendoci lì, accanto a questa grotta, noi ricontempliamo questo stupendo esordio del Vangelo di Giovanni. Lo ricontempliamo con molto gusto. Giovanni scrive il suo Vangelo ormai già verso il cento dopo Cristo e contempla ciò che lui ha visto con i suoi occhi, ciò che ha contemplato con il suo cuore, ciò che le sue mani hanno toccato, hanno palpato intorno al verbo della vita. Contempla questo mistero strano e avvolgente. In principio era il verbo. Cos'è questo verbo? Cos'è questo verbo? Non è soltanto la parola, ma è il progetto, il progetto di vita. È la sapienza. Il logos greco, il termine greco, è difficile da tradurre. Vuol dire tantissime cose. Noi scegliamo questo termine italiano verbo che vorrebbe esprimere in sé tutto. In principio era il verbo. Sin dall'inizio, sin da sempre, prima ancora della creazione, la parola era nel cuore di Dio. La parola era nel cuore di Dio. La parola era presso Dio, di fronte a Dio, accanto a Dio, faccia a faccia. E Giovanni arriva a dire questa parola straordinaria. E il verbo era Dio. La parola è Dio stesso. Questa parola si incarna. Prende una carne come la nostra. E' una carne umana. Questo bambino, piccolo, nasce come tutti i bambini di questo mondo. Proviamo a immaginarci il momento della nascita. Maria è pronta. Sono lì in questo rifugio di fortuna. E dà la luce Gesù. Gli altri evangelisti si dicono che dando la luce lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. La mangiatoia, così come è fatta, può anche sembrare una tomba. una barra. Nel momento stesso in cui Gesù nasce, si esprime il dramma della sua vita. Tutto il dramma. Questo Gesù, a volte in fasce, è deposto in una mangetoia, sarà lo stesso Gesù che dopo trenta e più anni verrà avvolto in fasce e deposto in una tomba vuota. la vicenda di un uomo dalla nascita alla morte. Però notate, una nascita strana. Maria e Giuseppe, a causa del censimento dell'imperatore romano che voleva toccare con mano la sua potenza, sono costretti a lasciare Nazareth e andare a Betlemme, la città d'origine di Davide. Sono costretti a farsi chilometri e chilometri, a piedi, per arrivare a Betlemme. e quando arrivano probabilmente dovranno avere dei parenti, dei conoscenti, ma nessuno li ha accolti in casa sua. Nessuno. Altro che poesia del Natale. Altro che poesia del Natale. nessuno li ha accolti in casa sua. Essi sono costretti a cercare un rifugio di fortuna. Appena fuori della città, della cittadina di Betlemme, vi erano delle grotte che fungevano da rifugio per quelli che non trovavano altra possibilità e come rifugio per i pastori. E lì Maria dà la luce al bambino. Gesù nasce fuori della città. Già dalla nascita per lui non c'è posto nel consorzio umano. È un rifiutato. È un emarginato. allo stesso modo Gesù muore fuori della città perché un ebreo non può essere crocifisso e allora deve andare a morire al luogo della crocifissione che è fuori della città di Gerusalemme alla maniera dei pagani e dei malfattori. rifiutato emarginato. Questa è la vicenda Gesù la vicenda che ci dovrebbe riguardare direttamente perché noi professiamo la nostra fede in questo uomo Gesù. Lo riconosciamo Dio figlio di Dio ma contemporaneamente se non ci appassioniamo e non ci affezioniamo all'uomo Gesù noi non arriveremo mai a comprendere il suo messaggio. Nasce fuori della città muore fuori della città tutta la sua vita l'ha vissuta da emarginato escluso. Vi ricordate quando lo accusano di farsela con pubblicani e prostitute mangia e beve con loro uno scandalo. Gesù fa una scelta precisa Dio nel suo figlio fa una scelta precisa una scelta di parte Dio si mette dalla parte dell'emarginato dell'escluso del rifiutato del povero del bisognoso dell'affamato dell'assetato e così via. Dio fa preferenze di persone perché si schiera dalla parte dei più deboli. Questo ci dovrebbe sconcertare un po' che Dio è se si mette con i più deboli. Allora il nostro Dio non è un Dio forte non è un Dio potente non è un Dio che stringe alleanze con i potenti di questo mondo che Dio è? Io direi che il nostro Dio è affascinante proprio perché è debole il nostro Dio è affascinante proprio perché ha fatto questa scelta di parte il nostro Dio è affascinante proprio perché si mostra nella sua piena impotenza appeso alla croce o bambino come tutti i bambini di questo mondo assolutamente bisognoso debole e assolutamente dipendente dalla madre e dal padre questo è il nostro Dio allora contemplando a Bethlehem questa grotta e nella grotta questa stella noi contempliamo il mistero quel mistero che ha dato a noi la possibilità di essere uomini e donne pieni di dignità pieni di libertà pieni di amore grazie a tutti Grazie. Credo in un solo Dio, Padre onipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato o non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crucifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è resuscitato secondo le scritture. Il Dio dal cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo avverrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il figlio della Vergine Madre, nato a Betlemme, è l'Emmanuele, il Dio con noi. Esultanti nella fede, in questo giorno santissimo, ci uniamo a tutti coloro che credono e sperano nella salvezza operata dal Signore. Diciamo con gioia, Gesù, Figlio di Dio, salvaci. Gesù, Figlio di Dio, salvaci. Per la Santa Chiesa, che contempla con la Vergine Maria il verbo fatto carne, perché annunzi con grande gioia che nel mistero del Natale il Signore Gesù è vicino ad ogni uomo, soprattutto a chi vive nella disperazione e senza prospettive esistenziali, preghiamo. Gesù, Figlio di Dio, salvaci. Perché il bambino Gesù benedica e protegga Papa Francesco nell'annuncio coraggioso del Vangelo. Preghiamo. Gesù, Figlio di Dio, salvaci. Perché con le nostre azioni sappiamo cantare le meraviglie del nostro Dio e la salvezza che Egli ci ha donato. Preghiamo. Gesù, Figlio di Dio, salvaci. Perché in questi giorni di festa sappiamo riscoprire il senso della famiglia, il dono dell'amicizia e della solidarietà fraterna, soprattutto con ammalati ed anziani, preghiamo. Gesù, Figlio di Dio, salvaci. Perché il Verbo venuto nella carne doni giorni di pace e di giustizia a tutti i popoli del Medio Oriente e soprattutto alla terra in cui è nato, dopo le laceranti divisioni per il riconoscimento statunitense di Gerusalemme, capitale dello Stato di Israele, preghiamo. Gesù, Figlio di Dio, salvaci. Preghiamo soprattutto per i nostri bambini, per tutti coloro che si affacciano alla vita e che hanno bisogno di essere sostenuti, accompagnati e incoraggiati da noi adulti. Per loro preghiamo. Gesù, Figlio di Dio, salvaci. E tutto questo te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Gesù, Figlio di Dio, salvaci. Gesù, Figlio di Dio, salvaci. Gesù, Figlio di Dio, salvaci. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Sancto, 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 Sancto. Grazie a tutti. 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 Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Grazie a tutti. 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 preghiamo insieme per l'unità e la pace Signore Gesù Cristo che ha detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace vi do la mia pace non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e la pace secondo la tua volontà tu che vivi e vieni nei secoli e dei secoli Amen la pace del Signore sia con ciascuno di voi come figli del Dio della pace scambiatevi un gesto di comunione fraterna grazie a tutti 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 guardando i nostri amici grazie a tutti Beati noi invitati alla Messa del Signore ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Grazie. 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 Preghiamo ancora il Signore. Padre Santo e Misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e ci ha rigenerati come i Tuoi figli, ci comunichi il dono della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e tirate il capo per la benedizione. Dio che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questo giorno Santissimo, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo vi riempia della sua pace e del suo amore. Amen. Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente che è Padre, è Figlio ed è Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Annunciamo a tutti con gioia che è nato per noi il Salvatore. Andiamo in pace. Grazie a Dio. Mentre auguro Buon Natale a ciascuno di voi, date l'augurio soprattutto ai bambini e ai più piccoli, da parte nostra. noi continueremo a stare accanto a voi e a ciascuno di voi che frequentate questa Chiesa con quella piccola, debole testimonianza che possiamo dare. intanto chi vuole ora possiamo fare il bacio del bambino Gesù. Buona festa a ciascuno di voi. Grazie. 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 Grazie.